Al via le visite guidate per i ritrovamenti archeologici al Pincio di Fano. Il ciclo di sei visite saranno accompagnate dall'archeologa Laura Cerri, che ha condotto gli scavi ai ritrovamenti nell'area sottostante a Porta Maggiore e immediatamente esterna alle mura romane, antistante l'Arco d'Augusto. Si svolgono il sabato mattina alle 11 e oppure il giovedì pomeriggio alle 15 per tre giovedì e per tre sabati fino alla metà di febbraio. Crediamo che questa sia un'iniziativa molto bella perché la nostra città è stupenda. Il Pincio con i lavori di strutturazione credo possa essere definito uno dei posti più belli di Fano da oggi in poi, quando comunque i lavori saranno finiti e crediamo che far vedere un pezzo di storia della nostra città rimasta nascosta sotto i scelci, credo che sia una cosa che dia valore a già quanto di bello a Fano. L'accesso alle visite guidate sarà aperto a tutti coloro che vorranno avere delle maggiori informazioni su questi scavi. Gli scavi risalenti all'epoca medievale restituiscono un'analisi delle diverse fasi costruttive della porta in questione che ha subito nel tempo vari rifacimenti, restauri, ampliamenti e demolizioni fino all'età contemporanea con notevoli modifiche nella planimetria e nell'aspetto. Sono state riportate alla luce le fondazioni dei muri relative alle diverse fasi di porta maggiore come quella della prima costruzione in muratura risalente ai primi anni del XV secolo e quelle fatte dopo l'assedio di Federico da Montefeltro nel 1463. Oltre ai resti delle fondazioni murarie, gli scavi hanno messo in luce anche i due cunicoli localizzati ai lati della porta e ai quali si accedeva tramite delle botole. Il primo è il più antico e risale alla prima fase in muratura delle fortificazioni. L'altro invece, munito di una cannoniera da un lato e da un camminamento dall'altro metteva in collegamento la porta con il vicino bastione e con altre parti delle fortificazioni. Abbiamo rinvenuto le strutture relative alle varie fasi costruttive della porta maggiore di cui la fase più tarda vediamo ancora in elevato e una serie di livelli stradali quindi di battuti e strade vere e proprie connesse con la porta. Tutto è di fase medievale sostanzialmente e rinascimentale. Proseguono inoltre i lavori al Pincio di Fano per la riqualificazione della zona. I lavori stanno procedendo, è stato dato l'accesso al commercio che si affaccia sul Pincio e a brevissimo, nel giro di qualche giorno, aprirà anche il passaggio verso l'arco di Augusto per cui per poi essere tutto scoperto, tra virgolette, prima dell'inizio del Carnevale. Ovviamente per quella data ci aspettiamo che tutti i selci nella strada attorno appunto a quello che resta del bastione del Nuti sia transitabile da tutti appunto per fare un'ottima iniziativa del Carnevale.